Sabo ce ne hai tre qui Eh Sabo ti ho colpito un attimo, mi dispiace, non volevo C'è stato il wallbang Ne arrivano altri, ne arrivano altri Sabo Io me ne vado, sono un po' a monculi finito Ma perchè adesso si sono svegliati Ho detto, oh guarda, vorrei vincere Andiamo a fare un po' la capra dell'Est Estonia e del Nord Nordone, dai Puoi sentire il verso della capra del Nord Carolina? Ok Ti fa dire la Carolina? No, no, eh vabbè Carica il capolo pronta No, no, no Dai, fiu, ti fai qualcosa Attività ne permettete di difendere la stanza Ultimo uomo per la squadra alleata No, 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 no Who, ti fai qualcosa Qui fai qualcosa Trappoli Non, no, no Qui fai qualcosa Avila Ma Non mi sbarraro in faccia, però, Adria, non mi sbarraro in faccia, non mi sbarraro con il tuo Ragazzi, mancano 15 secondi, rimangono 10 secondi, tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia, prendete la stanza e proteggete il contenitore, difensori eliminati, come una scosata è l'unica, pippa, eh grazie di lo so, mi allo succhiano tutto, ahhh,